Sai che alla fine sanno cosa stanno facendo. Guarda cosa vi facciamo vedere, ci spostiamo un po' fino entra la fotografia con la squadra, la sua squadra, quella di Kimi Raikkonen con Mark Arnal, il suo preparatore alle sue spalle. Guardate che bel sorriso, quello di Kimi che non caccia neanche le telecamere. Un bel momento forse adesso sì, avrà realizzato che sono gli ultimi chilometri che percorrerà in rosso un pilota che ha acceso la fantasia di tanti tifosi, l'ultimo campione del mondo nel 2007 con la Ferrari. Visto come è scappato Kimi perché sennò diventava troppo tenere e è partito per rimanere di ghiaccio. Hai ragione Jacques, hai ragione.